È finita definitivamente tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero. Tra i due è rimasta però molta sintonia e complicità, tanto che molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno fatto il tifo per i due. Un modo anche per ricomporre la famiglia visto che l'ex Gieffino e la cubana hanno insieme un figlio, il piccolo Leonardo di quattro anni. In un'intervista a Diva e Donna Pretelli ha spiegato il motivo per cui non è stato possibile tornare tra le braccia di Ariadna. Queste le parole chiare di Pierpaolo? Ariadna, è stato un grande amore e c'è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo. In seguito alla nascita del bambino, avvenuta dopo pochi mesi di frequentazione, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero sono andati in crisi. Tra i due c'è stato un lungo tira e molla finito poi definitivamente quando il 30enne si è presentato a Uomini e Donne, dove ha provato a corteggiare l'ex tronista Teresa Langella. Durante il primo lockdown Pierpaolo Pretelli ha provato a riconquistare Ariadna Romero ma l'attrice e modella ha preferito non regalare un'ulteriore chance all'ex compagno. Ariadna ha ammesso di non amare più Pretelli, che si è così rassegnato alla scelta della Romero. Oggi i due restano buoni genitori per il piccolo Leonardo. Mentre Ariadna Romero è ancora single, il presente e il futuro di Pierpaolo Pretelli ha un solo nome, Giulia Salemi. Dopo la fine del grande fratello VIP la storia tra i due procede a gonfie vele. Pretelli ha presentato il figlio a Giulia e tra i progetti imminenti della coppia c'è quello della convivenza. Pierpaolo Pretelli ha dichiarato che Giulia Salemi l'ha colpito subito per la sua fragilità, sensibilità, generosità e per il fatto che abbia sempre cercato di tirare fuori la sua parte migliore di sé. L'italo persiana ha decisamente stravolto la vita di Pretelli. Giulia mi fa stare bene, mi fa ridere e io la amo per questo. Abbiamo una complicità molto forte, credo tanto in noi. Dopo Ariadna è la prima persona che mi fa stare veramente bene. Elisabetta Gregoraci, per Pierpaolo Pretelli è passato. Del resto tra l'ex moglie di Flavio Briatore il modello non c'è mai stato nulla di serio visto che la 40enne ha messo diversi paletti nella casa più spiata d'Italia. Pretelli non si è detto pentito del suo corteggiamento ma ha ribadito che la sua vita ora è accanto a Giulia Salemi.